Salve a tutti, mi chiamo Luigi Tempesta, ho 25 anni e venivo dalla Soria. Io lavoro in un piccolo alimentare al Bombera, a Rione Alto, la mia più grande passione è il canto. La mia più grande passione è il canto perché mi piace fare con suonare gli altri e così facendo ho trasmetto tutte le mie emozioni. Buonasera a tutti. Questa sera qui sul palco delle Key Factor Luigi Tempesta. Buonasera, buonasera, buonasera Luigi. Benvenuto. Ok, se non ne hai bisogno, se no lo sistemiamo come altezza, eh? Eccoci qua. Ah, ok, benissimo. E allora, caro Luigi, un pezzo davvero molto particolare, insomma, un pezzo che hanno cantato anche tanti artisti. Noi lo ascoltiamo questa sera nella versione di A Great Big World e Cristina Aguilera. Signori, Say Something! Say something, I'm giving up on you. I'll be the one, if you want me to. I'll be the one, if you want me to. I'll be the one, if you want me to. I'll be the one, if you want me to. I'll be the one, if you want me to. And I, I'm feeling so small. I'll be the one, if you want me to. He was all but my health. But nothing at all. And I will stumble and fall I'm still learning to love Just loving to come Say something, I'm giving up on you I'll be the one if you want me to Anywhere I will follow you Say something, I'm giving up on you Whisper of my pride You're the one that I love And I'm saying goodbye Say something, I'm giving up on you I'm sorry that I could get to you Anywhere I will follow you Say something, I'm giving up on you Say something, I'm giving up on you Say something Luigi Tempesta Applauso, applauso, applauso per il nostro Luigi Devo dire, insomma, Luigi, se lo vedi, mi sembra uno tranquillo, pagato, rilassato Insomma, arriva qua e tira fuori Una bella voce, vero Flavio? Sì Una voce molto molto bella, bravo Quanti anni hai Luigi?